ciao ragazzi benvenuti in questo nuovo video e oggi cucineremo con mattia allora abbiamo ci sono tante cose qui abbiamo una ciambellina e dei pezzi per cucinare un buon hamburger iniziamo allora il pezzo del panino di sotto e l'hamburger dobbiamo cucinare quindi prendiamo una padellina mettiamo dentro cuciniamo l'hamburger già abbiamo messo i pomodori e giralo è caduto l'hamburger ok allora questo abbiamo tolto è pronto mattia metti sul panino mettiamo prima l'insalatina mettiamo l'insalatina l'insalata si cucina wow le nuove ricette di mattia allora l'hamburger è pronta mattia poi mettiamo l'insalatina poi cosa ci mettiamo le i pomodori ha pure il pomodoro cuciniamo va bene questo è il pezzo del panino di sopra allora adesso sono pronte anche i pomodori mettiamo i pomodori il formaggio cuciniamo cuciniamo anche il formaggio senti ma tu nel tuo ristorante ce l'hai le patatine si si ah già pronte imbustate eccoli qua mettiamo un po di ketchup il pane si si deve riscaldare mettiamo il ketchup si ma in padella mettiamo un po di maionese e l'abbiamo fatto pieno pieno di salse poi mettiamo un altro pezzo del panino e guardate prendiamo un piattino e guardate qua quanto è bello e adesso mangiamo le patatine mangiamo le patatine sono buone queste patatine alfonso tu ci tagli un bel pezzo di pizza pizza napoli peperoni bel pezzo di pizza bello e scotta prendiamo un bel pezzo di pizza che sopra ci sono fettine di salame erbetta che non so cos'è polpette questa è una pizza abbastanza strana si probabilmente americana è una pizza americana dove fai una ciambellina ah anche una ciambellina allora prepari proprio di tutto nella tua cucina e non si beve no si prego c'è l'acqua e tengo il gelato anche il gelato ce lo fai vedere questo gelato chef mattia guarda che bello un bel gelato alla fragola e io sto tagliando la pizza tu tagli la pizza e cosa ci hai messo su questa pizza? niente niente? niente una pizza? c'è ne cento cose niente allora vedo questo? alfonso tu mangi due patatine? dai due patatine aspetta sta spruzzando le patatine sulla pizza e che è? è una nuova salsa? una nuova salsa? bella la salsa patatina al tempo alfonso ci fa una bella crostata al volo ed ecco che volando volando è caduta da terra ci vuoi riprovare? che colpo nel frattempo abbiamo cucinato un altro hamburger e poi mattia che si lancia in un volo dell'hamburger ed è caduta da terra e dobbiamo comprare un altro hamburger poi ci abbiamo un bel dolcino in questa... in questa... come dobbiamo chiamarlo? pizzeria? hamburgeria? in questa hamburgeria? no no questa mattia questa mattieria io voglio qualcosa di dolce c'è qualcosa di dolce? c'è cioccolato mi dai un pezzo di cioccolato? questo è un bel pezzo di cioccolata volevo farlo volare adesso stiamo ripreparando un'altra volta la pizza e che ci mettiamo? di nuovo le patatine ah sono proprio volate le patatine eh sì andate via non volevano mattia mettiamo un po' di ketchup e maionese anche su questa pizza? no ma come l'hai fatta? vi uste le patatine? vi uste le mattia? vi uste le patatine e tanta mozzarella hai preso la mozzarella? lo fai lo so prendi, tieni, te lo do io no, questa mozzarella ah nella bottiglia dell'acqua? il salto del muro qui pallone ma le patatine sono a mo' di martello sono dure vabbè la vogliamo infornare questa pizza? no no ce la mangiamo cruda? sì sì chef mattia la riscosta? sì chef mattia me lo vuoi fare un caffè? sì grazie questa è la macchinetta del caffè della nostra cucina noi adesso mettiamo la tazzina mattia prema il tasto premi il tasto ok ed ecco qua me lo daresti un caffè? te lo sei bevuto? vorrei un caffè un altro caffè? te lo bevi sempre tu? danno uno a me questo è mio vedete che bella tazzina? allora questo lavandino è pieno di cose da lavare molto chi si offre? mattia mattia viene a lavare un po' di cose sei pronta a lavare? sì lava tutto apri la fontana così aspetta facciamo vedere mentre si apre si gira in su lava lava tutto lava lava hai sporcatato? ho fatto tante pentole oggi tu? mh eh lui è lo chef matius lo chef che cucina per tante persone si? sta mettendo anche a posto? benissimo ragazzi per me è chef matius è tutto lasciate un like attivate il campanellino e scrivetemi se volete un panino ciao grazie a tutti grazie a tutti